Anche quest'anno Puoi partecipare alle selezioni per l'orchestra giovanile europea e Ulio Il bando del concorso lo trovi nei conservatori, nelle scuole di musica, presso le sedi Rai E in internet su www.radio.rai.it slash e Ulio Compilalo e spediscilo a Rai Radio Televisione Italiana Direzione Radio Marketing Operativo Via Asiago 10 00195 Roma O invialo per fax al numero 06-3231-041 Affrettati! Hai tempo fino all'8 ottobre Diceva di essere un vigile Si è fatto un creditore di mia nipote e mi ha preso tutta la pensione Mi hanno convinto a comprare gioielli falsi Tutti i miei risparmi persi Credevo fosse un tecnico Mi sembrava così per bene Perché mi ha fatto questo? Un mio amico è stato truffato proprio così Quel tipo diceva di essere un esperto di rendite Stavolta la mia esperienza è stata utile Se hai un dubbio, chiama subito il 113 Saremo da te per aiutarti